Il candidato di progetto di sviluppo, Vincenzo Sperone, si è presentato a titolo personale e non può utilizzare il nome del partito nel corso della campagna elettorale. Le sue dichiarazioni nel commizio di apertura sono state fuori luogo. A dirlo è stato il segretario del PD di Tortora, Francesco Martino. Durante il commizio di presentazione della lista progetto di sviluppo di Raffaele Papa, Sperone aveva chiarito la propria posizione in merito alla diatriba tra Martino e Papa, scontro che ha portato alla rottura dell'alleanza tra progetto di sviluppo e il PD. Ma per il segretario dei Democrat Tortoresi, Sperone avrebbe dovuto tenere fuori il partito dalla campagna elettorale. Da presidente dell'Assemblea, detto Martino, Sperone dovrebbe sapere che le candidature vengono discusse e decise dagli iscritti. Il PD è stato chiaro, non appoggerà nessuno e ha lasciato libertà di voto ai suoi componenti. Anche le mie indicazioni non sono legge. Ognuno può votare come meglio crede perché abbiamo deciso di non sostenere nessuna delle due compagini. Con ciò ribadisco che qualsiasi iscritto avrebbe potuto candidarsi, ma a titolo personale, senza cucirsi addosso gli abiti del PD. Abbiamo sentito anche il candidato della lista, progetto di sviluppo Enzo Sperone, che ha detto «Per il momento non voglio rispondere al segretario del PD, Francesco Martino. dirò tutto nel corso dei prossimi comizi», anche se questa diatriba è stata ampiamente discussa nelle sedi opportune.